Ciao gente, stasera inizia ufficialmente il mio tour qui a Madrid per il World Pride Madrid in occasione dell'orguglio 2017 e adesso siamo in questa terrazza magnifica per un aperitivo con tutti i vari colleghi che onestamente non conoscevo nessuno però è una bella compagnia, sotto di noi potete vedere la piazza dei video di gente E dove stai rispondendo? Bello, bello, bello È veramente spettacolare Ciao ciao